Una vera e propria base dello spaccio di cocaina in casa di un ragazzo di 19 anni. A finire in manette un incensurato di origine albanese che i carabinieri di Coglia al Metauro hanno trovato in possesso di 4 etti di cocaina e 11.500 euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio. Già da diversi giorni i militari avevano infatti notato un anomalo andi rivieni nei pressi dell'abitazione in questione, motivo per cui hanno deciso di intervenire sottoponendo il ragazzo ad un accurato controllo non appena uscito di casa. Nel corso della perquisizione personale e in macchina i carabinieri hanno rivenuto un pacchetto di sigarette nel quale erano occultate tre dosi di cocaina termosaldate già pronte per lo spaccio. Poi la perquisizione in casa ha consentito di rinvenire in camera da letto un vero e proprio laboratorio per la preparazione di cocaina. Quasi 400 grammi suddivisi in tre grossi involucri, un bilancino di precisione e sostanze da taglio del tipo mannite. Il 19enne è stato arrestato in flagranza di reato e recluso nel carcere di Villa Fastigi. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza e la destinazione del cospicuo quantitativo di droga sequestrata.